Ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it, recensione richiestissima e quindi eccolo qua, il panettone al pistacchio del bar latino di Aragona in provincia di Agrigento. Ecco qui il panettone glassato in cioccolato bianco al pistacchio e ricoperto di granella di pistacchio. È un po' traumatizzato dal viaggio. All'interno ovviamente è farcito con crema di pistacchio. In etichetta non è indicata la percentuale esatta di pistacchio, ma non è un problema. Assaggiamolo e scopriamo com'è. Andiamo a tagliare. La glassa è piuttosto croccante. Ed ecco qua la mia fetta di panettone. Allora c'è farcitura di qua, farcitura di qua, direi che è ben farcito. L'impasto ha un profumo meraviglioso e come morbidezza direi che è abbastanza morbido. E quindi partiamo con l'assaggio. Vediamo com'è. Davvero un ottimo impasto. L'impasto è molto molto corposo. È proprio quel retrogusto di burro molto tondo che è veramente molto piacevole. Vediamo meglio la crema di pistacchio. Buonissima. Tra l'altro guardate al morso quanta crema che si è rivelata. Veramente farcito benissimo. Come l'impasto anche la crema ha una consistenza proprio densa, molto nutellosa e ha una spiccata nota di tostatura. Con una tostatura così accentuata è un po' più difficile azzeccare la percentuale. Secondo me siamo intorno al 30%, ma potrei sbagliare. La copertura è davvero molto croccante, ma devo dire che il pistacchio non lo sento perché il cioccolato bianco rimane abbastanza incisivo. E quindi passiamo alle conclusioni. Complimenti perché è veramente un ottimo panettone. In particolare l'impasto ha un gusto molto corposo. C'è quel sapore di burro che arrotonda tutto, che a me piace molto. E poi la crema all'interno è veramente abbondante, è molto buona. Anche questa è piuttosto densa e la peculiarità è sicuramente questa nota di tostatura piuttosto marcata. Insomma, impasto e crema messi insieme funzionano davvero bene. Volendo fare un appunto invece, proverei ad aumentare la percezione di pistacchio nella copertura in cui il cioccolato bianco rimane ancora preponderante. Ovviamente, oltre a trovarli ad Aragona, fanno anche spedizioni. Comunque, come sempre, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Ringrazio quindi il Barlatino per avermi inviato questo panettone e avermi quindi permesso di fare questa recensione richiestissima. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video!